Elezioni regionali in Liguria dal 27-28 ottobre. Liguria Day ha preparato una rubrica, i candidati si presentano ed è con noi oggi l'ingegnere Antonello Guiducci. L'ingegnere Guiducci si presenta con il partito della Lega che vota Bucci presidente ed è candidato per la prima volta a queste elezioni. Nella sua prima vita ha sempre fatto il manager, il manager pubblico e privato e vuole portare le sue competenze proprio in questo senso, in questa managerialità. Credo che in ragione ce ne sia proprio bisogno. Ingegnere, qual è il tuo punto che ti ha spinto a candidarti proprio nelle liste della Lega? Mi sono candidato perché l'ultimo mio impegno, l'ultima azienda che ho gestito, cioè Aster, un'azienda pubblica, mi ha insegnato come è importante servire il nostro territorio e in un momento politicamente difficile ho deciso, sebbene in pensione, di mettermi in gioco, di metterci la faccia come si suol dire e di dare un civil service alla nostra Liguria. Perché Lega? Perché nei momenti particolarmente difficili di maggio-giugno, quando gli eventi che riguardavano il governatore Totti si stavano via sviluppando, ho visto gli assessori comunali e regionali della Lega, i militanti della Lega sul campo giorno dopo giorno a metterci la faccia, per l'amore che hanno per il territorio. E quindi a loro mi sono rivolto per dire se avevano bisogno di una mano che l'avrei dato volentieri e sostanzialmente mi sono poi ritrovato candidato. Ecco, il tuo programma si basa su alcuni punti fondamentali e questo che hai detto è importante, proprio quello di dedicarsi al territorio, di dedicarsi alla comunità, ma in particolare tu vorresti operare come manager nella sanità e nella sanità sappiamo che c'è da fare molto. Io ho portato managerialità privata all'interno di un'azienda pubblica e vorrei portare managerialità all'interno dell'amministrazione. Cosa vuol dire managerialità? Vuol dire affrontare progetti e processi con una visione ben precisa e con metodo. Significa che occorre pianificare, occorre darsi delle regole, occorre controllare costi e tempi. Questo vuol dire darsi un metodo. Dove? E gli obiettivi che più mi premono sono il comparto della sanità, quello della scuola e quello dei servizi in generale. Lì posso dare, posso mettere a frutto il meglio della mia esperienza. È vero, è vero ed è importante questo che tu dici perché in effetti bisogna pensare una frase importante. Le cose bisogna farle, ma bisogna farle bene, bisogna farle con managerialità. Questo è l'altro punto che mi raccontavi, che è la tua visione, quello che riguarda quello che chiami il cruscotto. Lo spieghi ai nostri elettori? Io ho gestito le aziende con sia private che pubbliche, cercando di avere sempre completamente in mano la situazione dell'azienda. Questo lo puoi fare creando un cruscotto di quelli che sono i principali indicatori di produzione, di economici e finanziari. E lo devi fare su tutti i comparti della regione e su tutti i progetti e a tutti i livelli. Ovviamente ci sarà un con diversi gradi di approfondimento, un cruscotto, un reporting più generale per il governatore e dei reporting più di dettaglio per i consiglieri e per gli assessori. Ma è fondamentale, per poter dare un serio contributo manageriale occorre avere la situazione sotto controllo. Faccio un esempio, vorrei fare un esempio se mi consenti. Oggi si sente tanto dire Alisa sì, Alisa no, nell'ambito della sanità. Non si può dire a priori. Prima bisogna cercare di capire dove si vuole arrivare. Per esempio il programma, che ovviamente il programma è quello del nostro candidato governatore Bucci, nel programma di Bucci c'è l'azzeramento delle liste d'attesa. Per azzerare le liste d'attesa occorre definire un processo, un nuovo processo di prenotazione delle visite. In questo processo si definiscono gli attori coinvolti, si definiscono gli strumenti tecnologici necessari e solamente a fronte di questo si definisce l'organizzazione. Quindi Alisa sì, Alisa no, è la risposta finale che si dovrà dare una volta delineato questo processo. Candidato Guiducci, se è stato chiarissimo, fai un appello agli elettori. Carissimi elettrici ed elettori, io vi chiedo di sostenermi perché sono una figura completamente nuova all'interno dello scenario politico ligure. La mia ambizione è quella di portare un serio contributo al territorio mettendo in campo le mie capacità professionali di tipo manageriale. E vi dico ancora una cosa, non mi dimenticherò del decoro urbano. Voglio portare anche un po' di civiltà e di educazione nelle cose di tutti i giorni, perché la città, le città spesso sono veramente vandalizzate da sporcizia e da graffiti, da adesivi che ne deturpano la bellezza. Grazie. Grazie a lei, caro ingegnere Guiducci.